ciao oggi voglio parlarti di come la voce può auto guarirti lo faremo anche con un esercizio molto pratico alla fine di questo video prima voglio darti qualche indicazione per capire bene come funziona questo processo quando noi emettiamo un suono in realtà noi lo percepiamo sempre in esterno come da noi verso gli altri e questo va benissimo perché fa parte della comunicazione in realtà se noi facciamo un semplicissimo esercizio ci tappiamo le orecchie in questo modo e proviamo a parlare sentiremo che tutto il nostro suono rimbomba e ha questa sonorità interna dentro alla nostra testa questo fa proprio parte di un ascolto che noi abbiamo che gli altri non hanno della nostra voce che è un ascolto interno che viene proprio da un orecchio interno da un ascolto di vibrazione del nostro suono interno proprio questo fa sì che quando noi emettiamo un suono possiamo farlo arrivare in qualsiasi parte del corpo la generazione del suono questa vibrazione interna che può arrivare appunto in qualsiasi punto del nostro corpo sia come risonanza dentro il nostro vocal tract che il nostro passaggio del suono sia attraverso la consonanza quindi attraverso questo passaggio della vibrazione attraverso tutte le nostre ossa e quindi può arrivare questa propagazione del suono anche alla nostra punta dei piedi questa percezione interna che noi abbiamo può arrivare a smuovere a guarire quelli che sono piccoli piccoli magari dolori che abbiamo ma anche piccoli e grandi dipende da quanta costanza sia e soprattutto per quanto tempo continuiamo a fare questi esercizi quindi vediamo semplicemente un possibile dolore come può essere il mal di testa ovviamente un mal di testa semplice stiamo parlando di qualcosa che adesso proviamo in modo veloce e che è magari legato a una quantità di pensieri tanto intensa e che vogliamo liberare allora possiamo procedere a fare questo esercizio interessante mettiamo la punta della lingua sul palato in alto nostro palato duro e proviamo ad emettere una n pensando di far vibrare la nostra punta della lingua anche se poi la base della lingua chiuderà in fondo la nostra gola attraverso questa n ma noi immaginiamo che la vibrazione arrivi sulla punta della lingua e che dalla punta della lingua si propaghi sulla nostra testa quindi piano piano senza staccare la punta della lingua dal nostro palato dalla n emettiamo una a la frequenza quindi l'altezza della nota la possiamo scegliere in base a quello che noi percepiamo risuona di più quindi possiamo anche cercarla la frequenza non è che dobbiamo beccare subito la frequenza esatta quindi noi da questa n apriamo in questa che propaga il suono in tutta la nostra testa questo lo disegnerebbe farlo per almeno cinque minuti circa e poi piano piano questa sensazione di pesantezza di pensieri e di tensione nella testa si allenta e cominciamo a sentirci meglio ovviamente questo è un esercizio molto semplice per un diciamo acciacco molto semplice che possiamo avere in qualsiasi giorno e proprio nello stesso modo con cui facciamo questo lavoro possiamo anche andare a lavorare su problemi un pochino più intensi chiaramente non a sostituire la parte medica ma ad accompagnare insieme a tutti quelli che sono dei problemi più pesanti per aiutare ad accelerare questo processo quindi interiorizzare dentro di noi la consapevolezza che possiamo fare qualcosa per noi stessi attraverso l'autoguarigione vocale proviamo a farlo insieme adesso mettiamo la punta della lingua in alto quindi leggermente arrotolata indietro e proviamo ad emettere una n come avete sentito dopo la n ho emesso una staccando praticamente la base della lingua dalla gola lasciando passare un passaggio però senza mai staccare la punta della lingua appoggiata sul palato duro quindi riproviamo insieme la sensazione quella che questa si propaghi per tutta la testa e principalmente cercate di portare la vibrazione verso quel punto della testa che sentite dolente in quel momento quindi può essere frontale laterale posteriore e vedrete che nel giro dei cinque minuti di qualche minuto anche dopo i primi 30 secondi comincerà ad allentarsi questa cosa lo sentirete maggiormente durante l'emissione vocale quando smetterete risentirete una piccola compressione che ritorna ma voi continuate ad insistere anche con delle pause piano piano questa cosa si allenta sempre di più fammi sapere come va nei commenti potete farlo anche se non avete problemi di dolori alla testa anche solo per alleviare i pensieri quindi fatemelo sapere commentate qui sotto e continua a e sul mio profilo instagram